buongiorno abbiamo in arrivo una nuova diciamo perturbazione perché in realtà assomiglia molto di più a una perturbazione quella che sta arrivando rispetto a quella che si è presentata ieri mattina vediamo e dobbiamo anche credo imparare un po a riconoscere a questo punto le nuvole con la nuova grafica perché ovviamente ogni settaggio è un po diverso questa era la situazione di ieri a quest'ora ieri mattina quindi proprio inizio dell'anno ancora delle nuvole con qualche pioggia al sud era quello che ci si aspettava e l'arrivo da ovest vedete di una di quella che sembra una piccola perturbazione avevamo detto aumento della nuvolosità forse qualche breve pioggia ma non proprio maltempo e poi ecco quello che bisogna diciamo così sulla sulla nuova grafica imparare un po a riconoscere queste ombre un pochino più chiare della nuvolosità quella piuttosto bassa vale a dire quella non troppo sviluppata guardate 12 ore dopo siamo nel pomeriggio serata di ieri non troviamo granché come nuvole quindi quel passaggio erano più nuvole che altro piogge maltempo non ce n'era e questo era quello che ci si aspettava ultime nuvole proprio residue ma molto meno perché vedete che la parte più intensa più bianca questo funziona sempre col con l'immagine del satellite si è ormai spostata dall'oionio alla grecia ecco vediamo l'immagine di questa mattina ve l'ho fatta di 12 ore perché si vede bene il salto eccole qua eccole le nuove nuvole questa volta evidentemente più organizzate più bianche più compatte più più intense che hanno già preso gran parte del nord diciamo il nord ovest con la parte più intensa e vedete questo velo sembra quasi un velo che prende la parte di nord est con nuvolosità ancora meno non troppo intensa ma chiaramente lo spostamento è verso est e quindi peggiorerà sulle zone di nord est e poi via via anche su quelle del centro da notare che c'è una certa nuvolosità anche dietro a sinistra di questa e questo ci dice che non passerà proprio molto velocemente però anche questa situazione passa caratteristica questa mattina diciamo da segnalare così come ci si aspettava temporaneamente l'aria presente al nord era abbastanza fredda e quindi il peggioramento di questa notte di questa mattina ha portato qualche nevicata a quote relativamente basse localmente anche molto basse però a novara questa mattina neve debole a milano malpensa neve debole quindi non quantità significative e soprattutto con temperature positive un grado sopra zero fra 1 e 2 gradi dove è possibile che nevichi sicuramente con quelle con quelle temperature ma nel corso della giornata è chiaro che ci si aspetta che spariscono questo 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 tipo di precipitazioni perché la temperatura poco o tanto un pochino sale bene fatto tutto questo preambolo vediamo come si sviluppa questa situazione e soprattutto il fatto che ne arriva un'altra dietro allora previsione per la giornata di oggi ecco le piogge al nord le nevicate sulle zone alpine intanto su quelle occidentali poi si spostano anche su quelle orientali le piogge che da quelle dalle zone di nord ovest o nevicate a quote basse vanno a prendere anche la parte di nord est poi la toscana poi la corsica a seguire quindi in tendenza il medio versante adriatico il medio versante tirrenico la sardegna mentre invece al sud in attesa di questo peggioramento che in prima fase arriverà ben poco ma c'è una seconda fase aspetta con qualche nuvola perché le nuvole più intense se ne sono andate quindi giornata più che più che discreta vediamo i venti previsti per la giornata di oggi ecco il sud ovest il libeccio che rinforza intorno alla corsica settentrionale fra l'elba e la corsica settentrionale quindi localmente forti se no sono venti sono mari mossi perché i venti sono sono moderati e questo sud ovest è quello che come al solito preannuncia come spesso succede preannuncia il cambiamento del tempo e il cambiamento del tempo lo vediamo non tanto nella giornata di domani perché tenete conto che questa sera comincia già a migliorare sulle zone di nord ovest domani abbiamo indicato delle piogge sulle regioni di nord est medio versante adriatico a passare un po sul versante tirrenico però tenete conto che sono piogge che se ne stanno andando quindi una situazione che sta comunque migliorando piogge che si attenuano quindi non è mal tempo così marcato resta soltanto qualche nuvola al sud anzi l'estremo sud anche con un cielo poco nuvoloso in qualche caso come la come la sardegna meridionale e però vedete le zone alpine occidentali già col sole che scompare tende a peggiorare siamo a venerdì sera tende a peggiorare sul settore di nord ovest di nuovo e infatti la previsione per sabato è tutt'altro che diciamo rassicurante da questo punto di vista perché peggiora sulle regioni di nord ovest poi si estende in giornata il mal tempo zone di nord est toscana corsica e a fine giornata avrà preso anche tutte le regioni settentrionali sfiorando almeno la campania qualche fenomeno intenso perché questa volta il peggioramento c'è ed è vero è vero nel senso che abbastanza consistente sulle regioni di nord ovest la liguria e poi in parte anche su quelle di nord est magari sulle zone alpine e prealpine piogge abbondanti forse anche qualche anche qualche temporale quindi vedete che c'è una specie di altalena ma sabato e domenica perché domenica il maltempo al centro al sud ci sarà sicuramente c'è un peggioramento reale le temperature possiamo vedere abbastanza rapidamente la tendenza la variazione oggi rispetto a ieri in zone in verde chiaro leggeri aumenti o in qualche caso in celeste o azzurro che sono leggere diminuzioni quindi anche qui ci sono degli assestamenti sostanzialmente vedete come la parte un pochino più fredda riguarda la pianura padana così come appunto abbiamo visto con i fenomeni di questa mattina in parte la sicilia domani tendenza in prevalenza all'aumento leggero sono i venti di sud ovest i venti meridionali che chiaramente mantengono le temperature non particolarmente basse e lo stesso vale ancora per la giornata di sabato in cui già si comincia a vedere ma più che altro a ovest la tendenza una certa diminuzione ma fino a sabato siamo su temperature che si mantengono diciamo su questi livelli fra sabato e domenica e lunedì io direi che qualche calo ce lo dobbiamo aspettare ma siccome partiamo da valori più che decorosi per la stagione mi pare che rischi di grande freddo al momento non ce ne siano bene noi ci vediamo domani 7 20 7 e 50 vi auguro una buona giornata adesso alessandra sardoni omnibus allora 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 allora